L'albero della felicità è stato scoperto ieri sera in piazza 10 settembre, alla presenza di molti cittadini e di numerose autorità. Realizzato interamente a tombolo, grazie al lavoro infaticabile di oltre 250 merlettaie, l'albero è destinato ad entrare nel Guinness dei primati. È infatti composto da 600 fazzoletti realizzati a tombolo in 12 mesi di incessante ricamo. Un unicum nel panorama mondiale a promuovere l'albero della felicità è stata l'associazione Il Merletto di Sernia all'arte nelle mani, associazione capace di coinvolgere nel progetto donne e uomini di qualsiasi età, accomunati dall'amore per l'artigianato pentro. Al termine della cerimonia d'inaugurazione, la manifestazione si è spostata nell'aula magna dell'ex Curia Vescovile, con la consegna di un attestato alle merlettaie che hanno realizzato l'albero, ad agliettare la serata il World Spirit Orchestra con Lino Rufo, protagonista della cerimonia. Dopo le feste di Natale, l'albero sarà smembrato e di fazzoletti venduti per beneficenza. Numeri impressionanti, un albero oltre 5 metri con 600 piastrine che rappresentano gli angoli storici di questa città, di questo territorio, 250 merlettaie, oltre 400 solo nella città di Sernia. Sono numeri importanti che portano sempre fuori regione, sempre di più, la storia, la cultura della nostra regione, di questo territorio, con una tradizione, quella del merletto, che affonda ormai da oltre 800 anni nella storia della nostra regione. Un applauso veramente a Carmela Iavarone e a tutte le merlettaie di Sernia per un'opera straordinaria, veramente molto molto bella, che farà bella mostra per quanto riguarda il Natale della regione, oltre che della città di Sernia. Sì, noi abbiamo iniziato qui nella nostra città con l'accensione dell'albero della felicità. È stato il miglior modo per iniziare le festività natalizie, purtroppo il tempo è stato inclemente, ma abbiamo fatto il possibile. Sono diversi appuntamenti, abbiamo aperto i mercatini sia in piazza di Settembre che al Parco Stazione. All'interno dei mercatini ci saranno dei mercati tematici che riguardano il riciclo, lo scambio di giocattoli fra i bambini, molte iniziative che aiuteranno a divertirsi tutti quanti i bambini insieme alle famiglie, facendo molta formazione con laboratori tematici. E poi avremo degli eventi all'auditorium, uno il 29 di dicembre con un festival anni 50 e quello del 4 di gennaio, con uno spettacolo in anteprima nel Molise, ti racconto il Molise, il maestro Piero Ricci con il suo gruppo eclettico e la compagnia Cast che allieterà tutti i presenti. Sì, con tutti i merletti di segna, oltre 500 merletti e 250 merlettaie che sono state al lavoro per un anno, con tanto amore e tanta grinda. E che pazzia, che strana e euforia, negli occhi e nel cuore che balza su e giù, mi piacerebbe dormire o soltanto scoprire che tutto era un sogno e non realtà, ma se mi sveglio davvero io sono un prigioniero di qualcosa che neanche so. Sono momenti della vita che vanno e vengono per tutti noi, se un giorno non ti gira bene, aspetta un attimo e vedrai lì. Sono costanti nei pensieri, nei gesti, in ogni banalità, ma è anche vero tutto il contrario, all'improvviso la felicità.